Bentornati su MyFootballGersey, oggi vediamo la maglia da portiere del Brasile dei mondiali appena disputati in Qatar, in versione FAN, la maglia un po' più comoda dedicata ai tifosi. La divisa da portiere del Brasile 2022 non si basa sull'onnipresente modello da portiere di Nike per le maglie da portiere del club 22-23. Il Brasile è l'unica ad azione ad avere una maglia da portiere personalizzata, a differenza di tutte le altre squadre nazionali come Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Paesi Bassi. La maglia da portiere Nike Brasil 2022 World Cup è principalmente nera, combinata con un rosso molto scuro, Borgogna Ash e i loghi Dynamic Yellow. È interessante notare che la maglia da portiere presenta un motivo grafico nero sul davanti, sul retro e sul pannello delle maniche, che è ripreso dalla nuova maglia da casa Brasile 2022. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclate al 100%. Il Brasile ha sempre un fascino particolare, non so per voi, ma per me rimane una delle squadre sempre più prestigiose al mondo. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle. Mi piace molto questo motivo leopardato, che peraltro è presente in diverse forme in tutte le maglie dei mondiali appena conclusi. Qui in alto vedete il costo, che per una maglia fatta così bene è veramente bassissimo. Tra l'altro vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Questo era il nuovo sito, mi sono trovato molto bene. Vi ricordo che in descrizione potete trovare un codice per ottenere uno sconto aggiuntivo sul sito e quindi la maglia diventa ancora più conveniente. Ora vi lascio alla parte finale, nella quale vedrete le misure. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.